Buongiorno a tutti, buongiorno e eccoci di nuovo riuniti qui per questo quinto incontro di questa serie di lezioni sulla figura di Paolo. Al solito, mentre aspetto che i collegamenti si attivino, ne approfitto per ringraziare nuovamente il gruppo Storia del Cristianesimo per ospitare e organizzare questo evento e i gruppi Biblia, Amicizia per la Cristiana e SAE per il sostegno che hanno dato a questa serie di incontri. Vorrei come al solito cominciare dal richiamare quelli che sono i punti principali che abbiamo esaminati negli incontri precedenti. Ricordo sempre a tutti che i video di queste lezioni sono poi messi a disposizione indifferita a chiunque voglia ascoltarli su YouTube e quindi possono essere ascoltati, presi in esame ad ogni momento. Dunque, cosa abbiamo capito in questi primi incontri che abbiamo fatto? Abbiamo visto che Paolo è un ebreo del primo secolo e dovrebbe essere sempre e soltanto definito come tale, il quale in gioventù si era unito all'unimento farisaico e poi attraverso quella che lui chiama come un'esperienza di rivelazione, si era unito a un altro movimento giudaico, quello dei seguaci di Gesù. Abbiamo visto come questi due movimenti avevano molte cose in comune, condividevano l'attesa della fine dei tempi e l'idea della venuta del Messia. Quindi erano due movimenti giovani, riformatori, in rapporto all'establishment sadduceo del tempo. Vienano tuttavia però anche alcune significative differenze che io ho cercato di evidenziare negli incontri scorsi. I cristiani, come gruppo apocalittico, condividevano l'idea dell'origine superumana del male, quindi davano al male una valenza cosmica che è assente nel fariseismo, dove invece il male è legato alla trasgressione umana e quindi alla libertà dell'uomo soltanto, e come gruppo cristiano anche attendevano un Messia superumano che sconfiggesse le forze del male e potesse così condurre gli uomini alla redenzione. Mentre invece la concezione messianica farisaica non è legata alla redenzione del male inteso come forza corruttrice che si manifesta attraverso una ribellione cosmica. Per i cristiani in particolare la fine dei tempi era imminente e il Messia era venuto in quelli che essi consideravano la prima venuta per tornare quindi alla fine dei tempi in un periodo che loro consideravano imminente come giudice escatologico. Il motivo per cui i primi cristiani ritenevano che il Messia si fosse manifestato sulla terra era perché il Messia aveva una missione da svolgere e questa missione da svolgere era legata al perdono dei peccati per i peccatori penitenti prima del suo ritorno glorioso dalle nubi del cielo come giudice finale nel giudizio escatologico. Oggi volevo soffermarmi in particolare sul problema della giustificazione per fede che è da sempre considerato come un elemento caratterizzante del pensiero polino. Del far questo mi soffermerò in particolare sull'analisi della lettera ai romani che è la lettera nella quale con più chiarezza Paolo cerca di presentare a persone che non lo conoscevano direttamente quelli che sono le linee fondamentali del suo pensiero. Nella lettera ai romani Paolo per prima cosa ripete l'insegnamento fondamentale cristiano che il giudizio escatologico è imminente. Paolo si rivolge sia agli ebrei che a non ebrei. Il giudizio è qualcosa che riguarda tutti indistintamente ebrei e cristiani. E qui nei primi due capitoli Paolo cerca di presentare perché il giudizio riguardi tutti e due i gruppi. I gentili non possono dire il giudizio non ci riguarda perché a noi non è stata data alcuna legge. Certo, la legge mosaica non è stata data ai gentili, la legge mosaica è stata data soltanto agli ebrei e soltanto gli ebrei sono tenuti ad osservarla, non i gentili. Il punto di Paolo è tuttavia che anche ai gentili Dio ha dato una legge, una legge diversa che è la legge naturale, creativa che Dio ha posto nell'animo, nel cuore di ogni essere umano al momento della creazione. Quindi avendo ricevuto una legge anche i gentili sono sottoposti al giudizio anche se non saranno giudicati secondo la legge mosaica. La legge mosaica riguarda soltanto gli ebrei circoncisi o i proseliti o i gentili che si siano circoncisi e siano diventati e ebrei. Questa idea della legge naturale, della legge creativa, è un'idea che Paolo prende dal giudaismo ellenistico per indicare quei precetti naturali che Dio ha dato a tutti gli uomini. Infatti nel giudaismo ellenistico l'obiettivo di ogni uomo è di vivere secondo natura, quindi secondo la legge naturale e anche la legge mosaica è vista come l'espressione più alta della legge naturale. Il giudaismo rabbinico più tardi, non volendo perdere la centralità della Torah, cercherà di includere la legge naturale, questa legge naturale nella Torah stessa e quindi affermerà che questi precetti naturali sono stati dati da Dio attraverso l'alleanza con Noè. Quindi parlerà di questi precetti come delle leggi noachiche. A differenza le leggi mosaiche che sono date agli ebrei, le leggi noachiche sono date a tutta l'umanità. Paolo semplicemente non usa questa espressione né riferisce la legge naturale a Noè, semplicemente perché questo è un concetto che ancora non esisteva e che si svilupperà soltanto a partire dal terzo secolo nel giudaismo rabbinico in parallelo al sviluppo dell'idea della preesistenza della Torah, altro concetto innovativo del rabbinismo. Dopo aver affrontato il problema del perché i gentili saranno sottoposti al giudizio, quindi perché il giudizio è rilevante anche per i gentili, Paolo affronta il problema degli ebrei. Gli ebrei non possono dire che il giudizio è solo un problema dei gentili. La legge è buona e santa ma la legge produce salvezza soltanto se uno la mette in pratica, come dice la circoncisione è utile, sì, se osservi la legge. Dio non fa alcuna preferenza di persona, afferma Paolo, e giudizio da tutti senza parzialità, ebrei e gentili, a seconda delle opere di ciascuno. E qui è molto interessante perché Paolo, come tutti i cristiani del primo secolo, quando parla del giudizio, parla sempre del giudizio secondo le opere. E qui nelle lettere romane, al capitolo 2, 9 e 10, tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il male, sul giudeo prima e poi sul greco, gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo prima come per il greco. Dio infatti non fa preferenze di persone. È lo stesso discorso che ha ripetuto anche nella seconda lettera ai Corinti, tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché erano il corpo sia in bene sia in male. Quindi teniamo sempre presente che per l'ebreo Paolo il giudizio finale che è operato da Cristo, questa è l'idea cristiana ovviamente, sarà secondo le opere. Del resto è quello anche che troviamo scritto nel Vangelo di Matteo, non c'è mai nessun riferimento a niente altro che non siano le opere buone o cattive al momento del giudizio. Come ha sottolineato molto bene Sanders, l'opposizione grazie a opere, grazie a legge, non ha assolutamente ragione di esistere tra il giudaismo e il cristianesimo. Anche il giudizio per opere è un giudizio per grazia, perché la legge è un dono di Dio agli uomini e Dio giudica con misericordia l'intero complesso di opere dell'uomo. Quindi anche il giudizio per opere è basato sulla grazia e sulla misericordia. La visione che contrapponeva il Dio severo degli ebrei, il Dio implacabile degli ebrei, il Dio misericordioso dei cristiani, appartiene alla storia delle polemiche ebraico-cristiane, ma non ha nulla a che fare con la tradizione originale e la natura stessa di queste due religioni. Entrambe sono fondate sulla grazia e senza grazia non ci sarebbe salvezza. Non esiste l'uomo o la donna senza peccato, perché il giudizio è sempre qualcosa che riguarda l'insieme delle opere compiute dall'uomo. Anche l'idea dell'esistenza di giusti fra le nazioni è un concetto diffuso nel giudaismo del primo secolo. Non si trova soltanto nel giudaismo ellenistico, si trova anche nella tradizione rabbinica. La persona che compie opere buone, il gentile che compie opere buone, sarà salvato nel giudizio, così come l'ebreo. L'appartenenza religiosa, l'appartenenza al popolo di Dio non è un privilegio che garantisce la salvezza e anche le persone giuste che appartengono ad altre nazioni saranno salvate nel giudizio, perché il giudizio è secondo le opere. Quindi qual è il problema? Allora, se il problema non è della legge, qual è il problema? Purtroppo, troppo spesso nel cristianesimo si è sviluppata questa visione che fa di Paolo colui che proclama la fine della legge, l'insufficienza della legge, addirittura la malvacità della legge. Paolo sarebbe antinomista, ma di questo non c'è traccia perché Paolo parla sempre in termini altamente positivi della legge, non nega che la legge sia da Dio e non nega che sia stata data per la salvezza. Quindi qual è il problema? Il problema non è la legge, il problema è che come cristiano apocalittico Paolo crede nella forza del male, crede che questo mondo sia sotto il dominio di Satana e quindi crede che ebrei e gentili siano tutti sotto il potere del male, sotto il potere del peccato, questo è il capitolo terzo, giudei e greci tutti sono sotto il dominio del peccato, come provato dal fatto che sia ebrei che gentili commettono peccato. Questa idea ovviamente pone chiaramente Paolo sulla linea apocalittica, non solo, ma lo pone in una linea apocalittica che nega che la legge mosaica in qualche maniera sia un rimedio al potere del male. L'influenza cosmica del male è un problema non soltanto dei gentili, è un problema anche degli ebrei, i quali sono ugualmente sotto l'influenza del male. Certo, Paolo ha una visione molto pessimistica della forza del male, tanto che usa l'espressione di essere schiavi del peccato, schiavi del male. Ora la schiavitù è un concetto che faceva parte dell'esperienza di vita delle persone al tempo di Paolo, quindi lui parla un linguaggio che poteva bene essere compreso dai suoi ascoltatori. Cosa implica questa visione del dominio del male come schiavitù? Implica il concetto che Adamo, che ha combattuto una battaglia con il Satana, è stato sconfitto, è stato sconfitto e quindi lui e tutti i suoi discendenti hanno ereditato la condizione di schiavitù. Questo era un concetto ovvio per le persone del primo secolo, si è schiavi per molti motivi, ma si è schiavi quando si è stati sconfitti, quando i propri antenati sono stati sconfitti, la schiavitù diventa una condizione che si eredita a causa di questa sconfitto. Dunque dire che ebrei e gentili sono ugualmente sotto il potere del male e dire che la condizione è così tragica dall'essere schiavi del male vuole dire che non esistono giusti o non esistono persone che saranno salvate nel giudizio? Non è questo il punto, anche lo schiavo di un padrone cattivo può essere giusto, il problema è che la condizione è molto precaria perché ad ogni momento il padrone malvagio può comandare allo schiavo di compiere azioni malvagie e i peccati una volta commessi conducono alla morte nel giudizio perché le opere saranno giudicate. Questo però non vuol dire che non esistano persone, che ci sia un'impossibilità di essere salvati nel giudizio. Paolo, come tutta la tradizione apocalittica, vuole indicare che esista una difficoltà ad essere giusti, una difficoltà seria, radicale ad essere giusti. Ovviamente questo non ha nulla a che vedere con la legge, che la legge è buona e fu data da Dio per la salvezza, ma è la forza del male che rende problematica l'osservanza della legge, è la forza del male che rende la legge motivo di morte. Come dice Paolo nel capitolo 7, la legge fu data all'uomo per la salvezza, per la vita, ma per chi non la serve è motivo di morte, di una nazione a causa della forza del male. È il male, cioè il peccato di Adamo, che ha trasformato per molti uno strumento inteso da Dio per la vita in uno strumento di morte. La legge per Paolo è buona e santa, ma non contiene solo una benedizione per i giusti, ma anche una maledizione per i peccatori. Quindi, ripeto, il problema di Paolo non è la legge. Purtroppo la tradizione cristiana si è insistito su questo aspetto. Paolo critica il legalismo o l'idea che esiste una legge come qualcosa che si oppone alla grazia. Non è questo il punto di Paolo. La legge è buona, è santa, è da Dio e condurrebbe alla salvezza se tutti gli uomini la osservassero. Il problema non è la legge, il problema è la forza del male. E questo fa sì che per il peccatore, per il peccatore, la legge diventa rivelatrice della sua incapacità di compiere il bene. Quindi non è che la legge produca il male. La legge, anzi, è uno strumento importante perché rende gli uomini coscienti di ciò che è buono e ciò che è male e rivela al peccatore la sua condizione di peccato. Quindi per Paolo esistono due problemi. Esistono le trasgressioni che l'uomo compie per sua volontà e esiste anche la condizione di peccato, la condizione di essere sotto l'influenza tragica del peccato. Ovviamente questo concetto distingue chiaramente il Paolo cristiano dal Paolo fariseo, non il Paolo cristiano dal Paolo ebreo, il Paolo cristiano dal Paolo fariseo. Perché dal punto di vista farisaico esistono i peccati commessi ma non esiste il peccato come forza cosmica. L'uomo, anche dopo il peccato di Adamo, che è un peccato basato per il faeseismo sulla libera scelta di Abramo, è e resta libero di cambiare vita. Per Paolo l'uomo ha ancora una certa libertà. Anche lo schiavo ha una sua libertà interiore e di scelta. Ma lo schiavo deve fare i conti con una forza maligna che lo possiede, che lo controlla e che è conseguenza del peccato di Adamo. Ecco allora che Dio, che non è crudele e non assiste senza reagire a questa situazione di difficoltà dell'uomo e della donna, agisce per controbilanciare gli effetti del peccato di Adamo con un atto di grazia che ne è l'esatto opposto. Questo atto di grazia è la morte, il sacrificio del Cristo che redime i peccati passati e annulla il potere del male, libera l'uomo dal dal potere, dalla schiavitù del male. E qui ritorna il parallelismo tra Adamo e Gesù, che abbiamo visto fondamentale anche nella Cristologia di Paolo, i due figli di Dio che attraverso la loro disobbedienza nel caso di Adamo e la loro obbedienza nel caso di Gesù, hanno un effetto diametralmente opposto sulla vita degli uomini. E infatti, come dice Paolo al capitolo 5, come a causa di un solo uomo, Adamo, il peccato è entrato nel mondo e così il peccato la morte, così a causa dell'altro figlio di Dio, Gesù, la grazia è entrata nel mondo e ha prodotto la giustificazione e la giustificazione è il perdono dato da Dio ai peccatori. La giustificazione per Paolo, il perdono per Paolo, è per fede, perché l'uomo schiavo ha soltanto un assenso da poter dare, non può compiere delle opere come prerequisito al perdono. In questo senso si tratta di un'offerta gratuita. Gesù muore gratuitamente per i nemici, per i peccatori, e a loro offre gratuitamente il riscatto, la ridenzione, come a uno schiavo a cui viene offerta la libertà, ma a cui anche la legge romana prescrive che lo schiavo dia il suo assenso, questa è la fede, la fede è l'assenso dato all'offerta di perdono, che lo libera dalla propria condizione. La schiavitù, la giustificazione, è completamente indipendente dalla legge. La giustificazione, il perdono che viene offerto adesso attraverso la morte del Cristo, è completamente indipendente della legge, perché la legge non ha il potere di perdonare i peccati dei peccatori o di liberare dal potere del male. La legge può solo rendere gli uomini consci del loro status di peccatore, della forza del male, ed invitarli a compiere il bene. Ma questo atto che viene manifestato dal Messia è completamente indipendente dalla legge. Però è molto importante distinguere tra giustificazione e salvezza. Quando Paolo parla di giustificazione, Paolo non parla della salvezza nel giudizio finale, Paolo parla del perdono che viene offerto ai peccatori nell'imminenza prima del giudizio finale. Già Sanders notava che Paolo, quando parla di giustificazione, si riferisce sempre come a un'esperienza passata. Voi siete stati giustificati. Si riferisce al battesimo. Si riferisce al battesimo. Mentre invece quando parla della salvezza, ne parla sempre al futuro. sarete salvati. Perché il giudizio finale non è ancora avvenuto. Quindi le due cose non sono coincidenti. E essere giustificati non significa necessariamente essere salvati. Perché anche il giustificato dovrà presentarsi di fronte al giudizio divino e se i suoi peccati passati sono stati perdonati e la persona è per così dire rinata attraverso il battesimo, ciò che la persona ha compiuto dal momento del battesimo al momento del giudizio sarà considerato nel giudizio. Quindi Paolo continuamente ripete ai battezzati che essi hanno la responsabilità di rimanere giusti e di compiere le opere buone che scaturiscono dalla giustizia e dal perdono ricevuto. Paolo tende a pensare che una persona giustificata sarà anche salvata. Dopotutto dal suo punto di vista si tratta di un periodo molto breve tra la giustificazione e la salvezza perché la fine del mondo è imminente. Paolo aspetta di essere ancora vivo al momento in cui Gesù ritornerà come il figlio dell'uomo. Paolo oltretutto la persona battezzata secondo Paolo non soltanto gli sono stati perdonati i peccati passati ma è stata liberata dalla potenza del male e quindi ora vive in Cristo e ha ricevuto lo spirito che lo conducono a compiere opere buone. Quindi per Paolo è quasi inimmaginabile pensare che una persona che abbia ricevuto così tanto non riesca a rimanere fedele in il tempo breve che ancora lo separa al giudizio. Ma la cosa non è assolutamente automatica e il perdono non è comunque risolutivo, non è come dice Paolo continuamente che la libertà è stata data per fare tutto quello che vi pare. Al contrario, la libertà è stata fatta perché l'uomo possa ora usare pienamente nel proprio libero arbitrio e agire con giustizia secondo la giustizia richiesta da Dio amando il prossimo e compiendo opere di giustizia. In questo senso i due concetti di giustificazione per fede, o meglio di perdono per fede, e di giudizio secondo le opere convivono armoniosamente in Paolo senza alcuna tensione o difficoltà. Spesso noi non ci rendiamo conto, ma quando leggiamo Paolo tendiamo a leggere in un contesto post paolino, addirittura agostiniano o luterano, ma noi dovremmo leggere Paolo negli anni 50, nel primo secolo, all'interno di quelli che sono i concetti che venivano discussi a quel tempo, in linea con quelle che erano le convinzioni che allora venivano discusse, non in linea delle successive interpretazioni. Paolo non conosceva Agostino e non conosceva Lutero, conosceva il libro di Enoch e le discussioni apolaiti del primo secolo. Non possiamo pensare a un Paolo che fosse così avanti, così avanti per modo di dire, nell'interpretazione che soltanto poi Agostino e Lutero hanno capito che cosa voleva dire, ma tutti i suoi contemporanei non lo capivano. Perché uno dei più grossi problemi che abbiamo nell'interpretazione di Paolo è che l'interpretazione che noi consideriamo tradizionale di Paolo non si trova al di fuori di Paolo, si trova soltanto in Paolo, non si trova in nessun altro testo del giudaismo antico e non si trova in nessun altro testo del cristianesimo antico. Soprattutto l'idea che il peccato originale significhi una impossibilità di compiere il bene, cosa che Paolo non afferma. Paolo Apocalittico afferma che essere sotto il dominio del peccato significa avere una grossa difficoltà nel compiere il bene, ma non un'impossibilità ontologica. Quindi una volta che noi liberiamo Paolo dalle sovrastrutture successive, Paolo torna ad essere un ebreo del primo secolo e un seguace di Gesù del primo secolo. Per tutti gli ebrei del primo secolo, inclusi i primi cristiani, il giudizio finale avviene secondo le opere di ciascuno. Per tutti i cristiani del primo secolo il battesimo è un dono di perdono dei peccati per i peccatori, per i molti, non per i giusti. I cristiani non predicano a tutti, come ho detto anche nella lezione prologo sul perdono dei peccati. Il cristianesimo non è un annuncio per tutti. Il problema dei cristiani sono i peccatori, quelli che non ce la fanno nel giudizio. Il cristianesimo è un annuncio della misericordia di Dio che nell'immenenza del giudizio si estende anche ai peccatori, offrendo loro un'ultima possibilità di conversione e di perdono da parte di Dio nell'imminenza del giudizio. Quindi come vedete la posizione di Paolo non è diversa da quella che troveremo nei sinottici dove Paolo, dove Gesù viene descritto come il dottore che è mandato ai malati e non ai sani. Per tutti i primi cristiani il perdono non equivale alla salvezza. I testi del primo secolo cristiani sono pieni di moniti contro i battezzati che non vivono secondo giustizia e che pensano che essendo stati battezzati possono fare quello che li pare. Non è così, non è così. Pensate soltanto alla parabola del servo ingrato nel Vangelo di Matteo dove si dice, dove si parla di questo servo a cui il re redime tutti i debiti e quindi non lo rende schiavo, non lo punisce, ma che poi se la rifà quando il re è partito con tutti i suoi sottoposti costringendo e pretendendo che essi invece assolvino ai loro doveri e li mette in prigione e quando il re torna dice, ricordate la parabola, non è che quello che tu hai fatto dopo essere perdonato non conti, anzi la punizione sarà ancora più grande. Pensate alla seconda lettera di Pietro che paragona i battezzati che commettono opere malvage, scusate il linguaggio un po' duro ma è quello che usa la lettera di Paolo, li paragona a dei cani che mangiano il loro vomito, siete stati liberati e poi tornate a mangiare del vomito, li paragona a dei maiali al quale si è lavato il muso e che torna a scrufolarsi nel fango? Sono queste le immagini che vengono usate per i battezzati, per i battezzati che tornano a compiere il male. E questa tensione tra perdono per fede e salvezza per opere rimane alla base di tutta l'antica tradizione cristiana nei primi secoli, nei padri apostolici o nel nuovo testamento. E Paolo è perfettamente in linea con questa tradizione. E' il modo anche in cui gli atti presentano la missione di Paolo per offrire il perdono dei peccati passati e la liberazione dal potere del male. Quindi per Paolo, ricordate quello che vi dicevo nel primo incontro in cui parlavo dell'interpretazione paolina, per Paolo non c'è, come purtroppo gli si è fatto spesso dire, non c'è un'unica via di salvezza in Cristo. Paolo non afferma che chi non crede in Gesù e non è battezzato non è salvo. Paolo afferma che per ricevere la giustificazione per fede e perdono dei peccati bisogna accettare la signoria di Gesù e accettare il dono che è da lui offerto, ma non afferma che chi non usufruisce di questo dono sarà condannato necessariamente nel giudizio, perché il giudizio è e rimane secondo le opere. Per Paolo non ci sono nemmeno due distinte vie di salvezza come la New Radical Prospective, la nuova prospettiva radicale, ha cercato di dire la legge per gli ebrei e Cristo per i gentili. Di nuovo limitando la salvezza per i gentili alla fede in Cristo. In realtà in Paolo, a mio giudizio, dal punto di vista storico, ci sono tre vie di salvezza. La prima è data agli ebrei che nonostante la forza del male sono capaci di essere giusti e di obbedire alla legge mosaica. Quindi la legge, come dice Paolo, è buona, è santa ed è stata data agli ebrei per la salvezza e chi obbedisce alla legge riceve la salvezza. La seconda via di salvezza è data a tutti i non ebrei che nonostante la forza del male sono capaci di essere giusti, di obbedire, secondo il linguaggio paolino, alla legge naturale e di compiere opere di giustizia. È quello che Matteo, nella sua descrizione del giudizio finale, parlerà, di cui parlerà Matteo attraverso questa immagine delle persone che si rivolgono al Cristo dicendo quando mai abbiamo noi compiuto opere di giustizia per te? E la risposta sarà ogni volta che l'avete fatta al più piccolo. Le volte avete fatto delle opere di giustizia al vostro prossimo l'avete fatta a me. La terza via di salvezza che Paolo afferma è quella data ai peccatori, ai peccatori, ebrei e gentili, alle pecore perdute della casa di Israele e alle pecore perdute tra le nazioni, i quali per fede accettano l'offerta di perdono attraverso il sacrificio del Cristo che viene a controbilanciare gli effetti del peccato di Adamo. Così come il male si è diffuso sulla terra per colpa di uno, così la grazia e la redenzione si diffondono sulla terra in parallelo e in contrasto, così da ristabilire l'equilibrio e Paolo dice a ristabilire la legge perché di nuovo gli uomini sono messi in grado di obbedire. In queste tre vie di salvezza ci è restituito l'immagine, credo molto più storicamente affidabile, di un Paolo la cui preoccupazione non è di mandare tutti all'inferno, quelli che non hanno fede in Cristo, ma di annunciare a tutti il messaggio di misericordia di Dio che include tutti coloro che indipendentemente dalle loro fede o religione compiono opere di giustizia per i loro prossimi. Un annuncio di misericordia che dai giusti, che compiono opere di giustizia, si allarga anche ai peccatori che altrimenti non avrebbero alcuna speranza, ma che ora dal sacrificio di Cristo ricevono questa ultima opportunità nell'imminenza del giudizio di unirsi anche loro ai salvati nel giudizio. Grazie, sono arrivato alla fine di questa intensa carrellata, con questo tentativo di riprendere, di rivedere, di offrire una lettura di Paolo all'interno del suo ambiente. E ripeto, per me Paolo ora non diventa più un corpo estraneo al giudaismo del primo secolo e al cristianesimo del primo secolo. Non si può leggere soltanto all'interno di una interpretazione dei suoi testi, bisogna porre i suoi testi in questo contesto. La prossima volta affronteremo più da vicino il problema del rapporto tra Paolo e i gentili, la ragione per cui Paolo è chiamato l'apostolo degli genti. E vedremo anche qui delle novità, perché Paolo non è il primo ebreo che predica ai gentili e non è nemmeno il primo cristiano che lo fa. Quindi cosa vuol dire che Paolo è l'apostolo dei gentili? Alla prossima volta la risposta. Vi saluto e dopo alcuni istanti di pausa comincerò a riguardare le vostre domande. Rimango con voi, naturalmente, perché vedo già che ci sono parecchie domande. Benissimo, allora vedo che le domande mi naturalmente vengono subito a affrontare gli aspetti direttamente, gli aspetti della conseguenza e della giustificazione. Certo, per Paolo la giustificazione Liliana non è soltanto il perdono dei peccati passati e anche la liberazione dal potere del male, perché l'uomo e la donna, battezzati, non sono più sotto il dominio del male, ma sono in Cristo, ricevono lo spirito del Cristo. Ma Paolo dirà che questo riafferma la legge, perché in realtà è una restaurazione dello stato originario. La legge presuppone la libertà dell'uomo. Per Paolo e per i cristiani è necessario di un processo che riequilibri il cosmo e che restituisca la libertà dell'uomo. Logicamente dal punto di vista farisaico tutto questo non ha alcun senso. Non ha alcun senso, perché dal punto di vista farisaico e poi del giudaismo rabbinico, l'uomo non è sotto il dominio del male e quindi l'obbedienza alla legge è un fatto che riguarda la libertà dell'uomo. Non c'è nessuna situazione in cui l'uomo, anche il più peccatore, non possa risollevarsi e compiere la teshuva, cioè il cambiamento di vita che lo porta alla giustizia. Allora Dio perdonerà. L'idea che Dio è misericordioso, che Dio perdona, che Dio accoglie i peccatori che ritornano, questo non è una prerogativa cristiana. Quello è questo in inserire queste tematiche all'interno di una visione apocalittica più generale che mette l'accento sulla visione apocalittica dell'origine supernaturale del male. Vedo che c'era una domanda a cui Francesca ha già risposto che riguardava il Battista, ovviamente non sappiamo di Paolo, sappiamo soltanto di come la rileggono i sinottici, che anche i sinottici la rileggono in quest'ottica dell'imminenza del giudizio. Qui naturalmente vi rimando a quella presentazione che ho fatto come prologo. Questa idea che il momento del giudizio non è soltanto un momento di condanna o di premio per i giusti, ma anche un momento di perdono per i peccatori, è un'idea che viene ereditata dai cristiani alla tradizione apocalittica, soprattutto si trova nel libro Le parabole di Enoch, dove si afferma che nel momento del giudizio i peccatori penitenti saranno salvati per un atto gratuito di giustizia, di perdono. Mentre soltanto gli impenitenti, anche per Paolo gli impenitenti non si salvano. Io non voglio presentare Paolo come... per Paolo Dio vuole che tutti si salvano e Dio offre a tutti la possibilità di salvarsi. Prima attraverso la legge e la legge naturale, che sono doni di misericordia dati all'uomo, a tutti gli uomini, la Torah di Mosè e Ibrei, la legge naturale agli uomini, tutti, attraverso cui l'uomo può ricevere per grazia la salvezza. Ma Dio non si accontenta perché riconoscendo le difficoltà di essere giusti dovuti alla forza superumana del male, nell'imminenza del giudizio offre anche qualcosa in più, che è un dono supplementare, che è i tempi supplementari, insomma, per chi di voi è appassionato di calcio, ecco, diciamo. Ecco, questa mi fa una bella immagine, non mi era mai venuta in mente, ma ve la dico. È come i tempi supplementari, la partita si è chiusa e che è giusto e che ha vinto e che ha perso. E sono i giusti, i peccatori. Dio apre i tempi supplementari per dare un'opportunità anche a chi ha perso di poter usufruire della salvezza attraverso il perdono. Ovviamente il perdono deve essere accettato, in questo senso che si fa riferimento con Giovanni Battista o con… quindi giustamente non… sì Francesco, non è erodico, non è sani, giustamente lo sai bene. Va preso per quello che è, perché i sani non hanno bisogno del medico. In questi tempi di coronavirus lo sappiamo bene, è bene che i medici si occupino degli ammalati. Siamo anche contenti che i medici non abbiano a fare con noi. Il medico si occupa dei malati e Gesù è visto come il grande medico che è mandato alla ricerca dei peccatori, alla ricerca dei malati, perché anche i malati possano essere guariti. Dunque le leggi noachiche sono, mi viene domandato da Massimo Marino, le leggi noachiche sono una concettualizzazione rabbinica di un problema che esiste anche prima. Ci sono testi che Filone o il libro ai giubilei che già parlano di queste cose, però in un contesto un pochino diverso. Mi spiego, per Filone le leggi noachiche sono le leggi creative, per giubilei sono le leggi che sono scritte nelle tavole del cielo. Quindi è un concetto un po' diverso dalla Torah mosaica che è preesistente e che contiene tutti questi elementi. Per giubilei le leggi noachiche non sono contenute nella Torah, mentre per la tradizione rabbinica sono contenute nella Torah perché la Torah è preesistente e è la Torah che ha fondamento dell'ordine creativo, non viceversa. non viceversa. C'è una bellissima immagine che c'è in Filone e nel Bereshit Rabat, cioè nelle due fonti, che parla dell'atto creativo di Dio. Filone dirà, Filone Alessandrino dirà Dio è come un architetto che prima di costruire il mondo ha pensato nella sua mente un modello ideale e poi lo ha trasformato in un progetto fattuale. E questo è il Logos, l'ordine creativo. Mentre invece il Midrash Bereshit Rabat, il Midrash Genesi della tradizione rabbinica dirà Dio è come un architetto che prima di costruire il mondo ne ha costruito un piccolo modello in legno e poi sulla base di questo piccolo modello in scala minore ha costruito il mondo. Questo piccolo modello in legno è la Torah. Vedete come le immagini abbiano forza e trasmettano diverse concetti, concettualità. Giovanni Saruso mi dice quindi facevano bene quei cristiani si facevano battezzare molto tardi per avere maggiore possibilità di salvezza. Eh sì, questo è stato un grosso problema all'inizio del cristianesimo. Tenete presente che per Paolo e per i piccoli cristiani il giudizio è qualcosa di così imminente che questi problemi non esistono. ma quando si comincerà a capire che la fine non poteva poi non essere così imminente nasceranno tutta un'altra serie di problemi. Tutta un'altra serie di problemi. prima di tutto è meglio battezzarsi nell'ultimo secondo di vita piuttosto che all'inizio. È vero. Guardate, se leggete il pastore di Erma, si dice chiaramente che la condizione di battezzati è tra virgolette peggiore la condizione di chi non è battezzato, perché chi non è battezzato può sempre in ogni momento accedere al perdono di Dio, mentre chi è battezzato? Lo ha già fatto. E il battesimo non può essere ripetuto. Ovviamente poi si comincerà a discutere tante cose. Ripeto, ma prima di tutto ovviamente se il battesimo può essere ripetuto. Perché l'origine del sacramento del cosiddetto sacramento della rinuncidazione è una forma di ripetizione del battito. Poi si comincerà a discutere ma come? Io sono stato battezzato qualunque trasgressione faccia. mi rende peccatore? Allora si comincerà a distinguere tra i peccati mortali, cioè quelli che conducono, che negano il battesimo, che annullano il battesimo, e quelli che invece sono veniali, non mortali, che possono essere perdonati da Dio anche senza una ripetizione del battesimo. Comunque non annullano gli effetti del battesimo. Anche tutta questa discussione tra peccato mortale e peccato non mortale, che comincia alla fine del primo secolo, ovviamente riflette questa concezione del battesimo. Ovviamente c'è questa dinamica, c'è sempre questa dinamica che esiste, ma come vedete a un certo punto una volta che si perde, ecco il discorso, non è che Agostino o Lutero si siano divertiti a rinterpretare Paolo come vi pareva, no. Loro cercano di capire come questi insegnamenti possano avere senso in un contesto che è molto diverso da quello qua. Però noi come storici cerchiamo di ricostruire il contesto originale. E questo contesto originale naturalmente è un contesto presinottico, è un contesto in cui il cristianesimo è un movimento all'interno del giudaismo nel secondo tempio, è un contesto nel quale il giudizio è visto come un evento imminente. Tantissimi dei problemi che riguardano la teologia del battesimo derivano proprio dal momento in cui il battesimo non è più legato, ha perso questo legame col giudizio imminente, addirittura poi quando il battesimo diventa, col battesimo dei bambini, diventa qualcosa che è prima della vita religiosa. Per Paolo non è prima. Per Paolo siamo ai tempi supplementari, la partita le persone l'hanno già giocata. Invece dopo il battesimo diventa qualcosa che viene fatto ancora prima di cominciare a giocare. Certo, lui vede una tradizione riguardo alla nuova alleanza, siamo d'accordo, c'è tutto un riprendere queste immagini della tradizione ebraica sulla nuova alleanza, eccetera. La tradizione giudaica che parli, certo ci sono le tradizioni legate a gusto alla vita di Anamedeva, e ne ho fatto riferimento anche nella mia leccio sul perdono e peccati, che riguardano proprio la salvezza di Adamo. Adamo è peccatore, non dovrebbe farcela nel giudizio. Però poi si immerge, secondo queste tradizioni, nelle acque del Giordano, fa penitenze e quindi chiede a Dio di essere perdonato e alla fine sarà perdonato per un atto di misericordia. Non è l'unica tradizione riguardo a Adamo, a Adamo ce ne sono tante e ovviamente ogni gruppo uniforme del giudaismo ha le sue tradizioni riguardo al peccato di Adamo. Noi normalmente ne conosciamo abbiamo due del peccato di Adamo, quella cristiana e quella ebraica, quella cristiana che lo lega alla corruzione del Satana, quella del giudaismo rabbinico che invece ne fa un test, una prova del libero arbitro di Adamo, ma c'è anche l'interpretazione dei giudeo-ellenisti che leggono l'episodio in filone, che legge l'episodio in forma allegorica, come il rapporto tra la mente umana, la ragione umana e i sensi umani, Eva, mediati attraverso il serpente che è il simbolo del piacere, cioè quindi come fondamento di un morale di vita che rifiuta il piacere per il mondo, per la materialità, ma invece lega l'esperienza umana, un'esperienza mistica di unione con il divino. Quindi ogni forma di giudaismo ha la sua reinterpretazione del peccato di Adamo secondo traiettorie diverse. Ombretta Pisano mi domanda quale sarebbe la situazione di giusti che accolgono Gesù? Dunque, secondo me la più bella definizione del giusto che si trova nel momento in cui Gesù si manifesta è quella del figlio giusto della parabola del figlio prodigo. Non deve essere invidioso, deve essere invidioso del fatto che anche ai peccatori si offerta la salvezza, ma deve essere contento di ciò che ha fatto. Cioè la missione Gesù vista nel primo secolo, è una missione che non riguarda il figlio che sta a casa, è una missione che riguarda il figlio prodigo. La posizione giusta è come quella delle 99 pecore che sono al sicuro nell'ovile, mentre il pastore se ne è andata a cercare la pecora perduta. L'insistenza è che ciò che hanno fatto è buono, cioè devono sentirsi orgogliosi di ciò che hanno fatto, ma non devono avere invidia per ciò che ma non ci vuole invidia per questa salvezza, questo perdono che è stato dato ai peccatori. La fede è legata senza altro con la precondizione per ottenere il perdono. Francesco giustamente mi richiama a Romani 3.9 dicendo che non c'è alcuno che compie il bene né per uno. Prima di tutto l'idea che non esiste il giusto senza peccato. Forse bisognerebbe anche usare due termini distinti. Se noi pensiamo che il giusto sia quello che non commette nessun peccato, Gesù stesso lo dice perché mi chiami giusto, soltanto il padre ne cede il giusto, non c'è nessuno. Anche per la tradizione rabbinica non c'è nessuno, si parlerà di alcune possibili eccezioni. Questo è il discorso che tutti gli uomini hanno commesso peccati. Non c'è nessuno che compia solo il bene, neppure uno. Questa è un'idea che non è che mette Paolo sulla posizione diversa dai farisei o dagli altri ebrei. Non c'è nessuno che compie solo il bene. Ma il giudizio non riguarda soltanto una. Il giudizio è fatto con misericordia. Guardate, rabbia che va dirà la giustizia e la miseria di Dio suedono sul trovo. Poi si parlerà anche in testi come il testamento di Abramo della bilancia dove vengono soppesate le opere buone e le opere cattive. In ogni caso non c'è il giusto senza peccato. Il salvato nel giudizio non è il giusto senza peccato. Il peccatore è una categoria diversa. E poi riguardo al capitolo terzo bisogna sempre stare attenti e Francesco secondo me a capire qual è l'ordine dei fattori perché Paolo non mette l'accento sulla citazione di Salmo 14 e altri salmi. Lui mette l'accento sulla cosa prima. Il punto che Paolo vuole fare è che tutti sono sotto il dominio del peccato. E questa è la cosa che riguarda. E dice cos'è che prova il fatto che tutti ebrei e greci sono sotto la dominio del peccato? Dal fatto che se voi leggete la Bibbia anche gli ebrei commettono un sacco di peccati e che non c'è nessuno che non ne abbia commesso uno. Quindi vuol dire che il male ha una valenza universale. E quindi da questo poi Paolo prende anche l'idea dell'uguaglianza nell'uguaglianza tra ibrei e i gentili che sono ugualmente vittime del male. E quindi allora si può parlare, lo vedremo la prossima volta, si può parlare di una situazione di ugualianza tra ibrei e i gentili esattamente perché entrambi sono ugualmente vittime del male. in questo senso tutti hanno peccato per i sani. No, i sani hanno peccato. Anche i sani hanno avuto un raffreddore. Non è quello il problema. Non è quello il problema che non c'è l'uomo senza peccato. La morte incroce. Perché la morte incroce? È il problema che Paolo è che lui vede nella morte incroce un atto gratuito di sacrificio che dal suo punto di vista è equivalente al peccato di Adamo. Attraverso questa offerta di espiazione, se vogliamo, il figlio ha espiato i peccati e quindi dà il perdono. Paolo lo sviluppa in maniera quasi esclusiva. Dicevo anche l'altra volta, se voi leggete i lettori di Paolo avete pochissimi elementi per quello che riguardano l'insegnamento di Gesù. Mentre altri testi nel cristianesimo metteranno più l'accento. Maria Ludovica, che saluto, anche mi ricorda non soltanto il figlio prodigo, ma anche i vignaioli. Io ho risposto a alcune di queste domande. Ripeto ancora, che ti dico, l'idea che non esista nessuno senza peccati è un'idea condivisa da tutti gli ebrei. Non esiste. Se Dio giuricasse soltanto secondo giustizia, nessuno sarebbe salvato. Dio è misericordioso e giurica con giustizia e misericordia. Quindi ci sono degli strumenti di espiazione per i peccati che sono previsti nella legge. Ma Paolo dice che la legge può espiare dei peccati, ma non può liberare dal peccato. In Paolo, come in quest'ottica politica, c'è una differenza tra il peccato e i peccati. Il peccato è questa forza che poi i cristiani chiameranno peccato originale, questa forza cosmica, superumana, maligna, che opprime l'individuo e che è frutto di una ribellione cosmica e che rende dell'uomo schiavo del peccato. E infatti in tutta la tradizione cristiana si parlerà di essere liberati dal male. Liberati dal male, che è un linguaggio... Dunque, perché Paolo accoglie il battesimo? Ecco, questo è vero importante perché ovviamente per Paolo, diventato seguale a Gesù, non ci sono soltanto i peccati, c'è anche il peccato. Quindi il battesimo è questa liberazione dal potere del male. Il battesimo fa qualcosa che è non soltanto un condono, è un condono, il battesimo è un condono, è un condono dei peccati passati, ma ha anche la valenza di liberare dalla forza del male. Senza questa accentuazione della valenza cosmica, escatologica e anche dell'imminenza del giudizio, è difficile comprendere Paolo. E questo dà ragione del fatto che Paolo sia molto presto diventato così difficile da capire. Non perché Paolo non abbia la sua logica, perché guardate, se provate a leggere Paolo seguendo gli indirizzi che vi ho dato, vedete che è un discorso molto coerente, addirittura molto semplice, ma senza avere l'idea del contesto nel quale leggerlo diventa incomprensibile, contraddittorio e quindi si offre a interpretazioni diverse. Su questo mi fermo, perché mi pare che abbiamo messo molta carne al fuoco, come dire, e vi rimando alla mia prossima e ultimo incontro nel quale ci soffermerimo in particolare sul problema del rapporto con i gentili e vi rimando a quest'ultima chiacchierata. Grazie a tutti, è sempre un piacere passare questa ora con voi e ci vediamo venerdì.